Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, detto questo, diamoci dentro col video. Le contee rurali dell'Ohio meridionale, con le loro dolci colline, le foreste di latifoglia e gli estesi campi, sono perfette per le attività ricreative all'aperto. Molti residenti e visitatori apprezzano le bellezze naturali del posto e ne approfittano specialmente durante le stagioni di caccia e pesca. Un tempo gli abitanti di questi paesi o piccole città lasciavano le porte di casa aperte di notte, in quanto la criminalità era considerata un problema delle grandi metropoli. Ma tutto iniziò a cambiare nella primavera del 1989. A partire dal primo aprile di questo anno e fino all'aprile del 1992, il serial Thomas, detto Tom, Lee Dillon, uccise almeno 5 persone a seguito di attacchi spietati, casuali e immotivati. Intanto continuava a godersi la vita all'aria aperta. Le vittime su cui si accaniva erano cacciatori, pescatori e persone che praticavano jogging. Le colpiva con armi da fuoco come, ad esempio, il suo fucile Mauser calibro .308 ad alta velocità. Dillon venne finalmente catturato nel 1992, quando un amico lo riconobbe in un profilo comportamentale compilato dall'FBI. Come per molti serial, i suoi primi disturbi si erano manifestati attraverso atti di crudeltà verso gli animali e appiccando incendi. In seguito Dillon ammetterà di aver appiccato più di 100 fuochi e ucciso più di 1000 animali domestici e da fattoria. Ma com'era cresciuto Thomas Dillon, uno degli assassini più famosi dell'Ohio? Thomas, detto Tom Lee Dillon, era nato a Kenton, nella contea di Stark, nell'Ohio nord-orientale, il 9 luglio 1950. Suo padre morì a causa di una malattia quando lui aveva solo 15 mesi. Lo psicologo Geoffrey Smuldoon sostiene che Tom considerava sua madre una donna fredda e insensibile. Non l'ha mai punito, ma neanche elogiato. Non l'abbracciava mai e non gli dimostrava alcun tipo di affetto. All'epoca degli omicidi, Dillon lavorava da 22 anni come disegnatore per l'acquedotto di Kenton. Era sposato, aveva un figlio e viveva una vita tranquilla in un ranch della classe media a Pike Township, nel sud della contea di Stark. I Dillon venivano descritti come una famiglia molto unita. I compagni di classe di Tom lo ricordano come un ragazzo estremamente intelligente, ma solitario e con pochi amici. Tom esplorava da solo i boschi dell'Ohio, si fermava lungo la strada per comprare della birra e spesso guidava per centinaia di miglia immerso nei propri pensieri, sognando di essere un soldato delle forze speciali impegnato nei combattimenti contro i nemici. In realtà, però, non lo era davvero. Quello che nessuno sapeva era che, per un periodo di tre anni, tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, Tom aveva effettivamente dato sfogo alle sue fantasie più cruente. A partire dall'adolescenza, Tom iniziò a tenere il conto degli animali che uccideva su un calendario presente nella sua camera da letto. Viveva con la sua famiglia nella 37esima strada northwest a Kenton. Inoltre, aveva un altro calendario su cui segnava il giorno in cui aveva avuto dei rapporti intimi e prendeva nota delle ragazze con cui era stato. Dopo il liceo, Tom frequentò il campus Stark della Kent State University e successivamente si iscrisse alla Ohio State University. Tom continuò a uccidere animali anche dopo la laurea, conseguita nel 1972. Cominciò poi a lavorare per l'acquidotto di Kenton e sposò Catherine Ilsas, un'infermiera di Allianz, nel 1978. All'inizio degli anni 80, Tom si vantava del fatto di aver ucciso circa 500 animali. Inoltre, era un appassionato di armi e, secondo il suo compagno di liceo e battute di caccia, Richard Fry, era solito acquistarne sempre di nuove. La maggior parte se le procurava tramite vendite private. Richard Fry sottolinea che Tom andava in giro armato, sempre, ed era solito anche usare una balestra. Nonostante avesse fatto molta pratica, Dylan era un tiratore mediocre, secondo Richard, soprattutto quando il bersaglio era vivo. Richard sostiene che Tom, nell'uccidere, sembrava colto da un brivido. Ricorda che, una volta, Dylan aveva usato un coltello per eliminare una marmotta ferita. Stava tremando, ha raccontato. Era frenetico, aveva gli occhi stralunati. Non si faceva alcun scrupolo nell'ammazzare gli animali. Tra la fine degli anni 70 e all'inizio degli anni 80, in alcune occasioni, Dylan iniziò a portare a casa animali morti. Richard Fry rammenta. Ricordo quando portò a casa un pastore tedesco di bell'aspetto. Aveva ancora delle frecce conficcate nel corpo. Dylan parlava con i colleghi di lavoro delle sue macabre imprese e non sembrava capire perché loro considerassero inquietanti quelle storie. Inoltre, Richard Fry racconta che una volta a metà degli anni 80, più o meno quando il figlio di Tom aveva 5 o 6 anni, si verificò un episodio davvero allarmante. Tom sparò uno scoiattolo che era sotto una griglia nel loro cortile. Suo figlio si era avvicinato perché era curioso. Ebbene, Tom afferrò il cadavere e iniziò a inseguire il bambino per tutto il cortile. Alla fine, il piccolo inciampò e cadde, trovandosi lo scoiattolo morto davanti alla faccia. Verso la metà degli anni 80, le attività di Dylan attirarono l'attenzione dei vicini di casa. Inoltre, un uomo riferì alla polizia che Tom gli aveva ucciso il cane. Fatta eccezione per alcune azioni disciplinari minori, come ritardi o assenteismo, intraprese negli anni 70, Tom era un buon lavoratore. Il suo supervisore presso l'acquedotto, J.D. Williams, in una lettera all'avvocato di Dylan, dopo il suo arresto, dichiarò Tom è un dipendente devoto e molto intelligente e queste qualità si riflettono sul suo lavoro. Va d'accordo con gli altri dipendenti e il suo atteggiamento è sempre positivo. Dylan era anche informato sulle procedure di polizia. Infatti, nel 1980 aveva frequentato un corso di formazione per ufficioli di pace dell'Ohio, a Lawrence Township nella Contea di Stark, ottenendo buoni risultati e diplomandosi con una valutazione di esperto in tiro. Nell'agosto 1991, Dylan venne citato da un guardia caccia per aver sparato a dei bersagli vicino ad una zona di caccia statale nel sud della Contea di Stark. Siccome il tiro al bersaglio è considerato un reato minore, Tom venne multato per un importo di 200 dollari dal Tribunale Municipale di Kenton. Durante una perquisizione del suo camioncino, il direttore sequestrò una pistola calibro 22 dotata di silenziatore. Tom venne così incriminato con l'accusa federale di possesso di un'arma e di un silenziatore illegale. L'avvocato di Dylan, Seinenberg, all'epoca si disse ottimista sul fatto che il suo cliente non avrebbe scontato la reclusione perché, durante il patteggiamento, aveva promesso di sbarazzarsi delle sue armi e di non comprarne di nuove. Seinenberg scrisse una mozione chiedendo clemenza, ritraendo Tom Dylan come un appassionato di armi da tutta la vita. Sì, aveva commesso un errore, ma non rappresentava una minaccia per la società. Seinenberg si sbagliava e di grosso. Thomas Dylan amava girare per le strade secondarie dell'Ohio sudorientale fingendo di essere qualcuno che non era. Immerso nella sua vita fantasiosa, Dylan raccontava di essere un multimilionario, uno scienziato impegnato in progetti salvavita che curava l'AIDS e un quarterback vincitore del Super Bowl. Ora che abbiamo ricostruito il passato di Tom Dylan, veniamo agli omicidi. Tra l'aprile del 1989 e l'aprile del 1992, l'uomo uccise cinque persone. Donald Welling, 35 anni, di Strasburgo, Ohio, il primo aprile 1989, mentre faceva jogging sulla Tuscarawas Country Road 94. La seconda vittima è Jamie Paxton, 21 anni, di Bennock, Ohio, il 10 novembre 1990, durante la caccia al cervo nella contea di Belmont. La terza vittima è Kevin Loring, 30 anni, di Dexbury, Massachusetts, il 28 novembre 1990, durante la caccia al cervo nella contea di Muskingham. La quarta vittima è Claude Hawkins, di 49 anni, di Mansfield, Ohio, il 14 marzo 1992, mentre pescava nella diga di Wills Creek, nella contea di Coshocton. La quinta vittima si chiama Gary Bradley, di 44 anni, di Williamstown, West Virginia, il 5 aprile 1992, mentre pescava a Caldwell, Ohio, nella contea di Noble. Il primo omicidio fu consumato vicino a New Philadelphia, una tranquilla comunità a sud di Cleveland, distante circa 90 miglia. La prima vittima è il 35enne Donald Welling, era originario di Strasburgo. Il 1 aprile 1989, intorno alle 9.30, Donald Welling è fuori a fare jogging su una strada secondaria, nella contea di Tuscarawas. Improvvisamente un veicolo gli si avvicina e qualcuno gli spara a bruciapelo. Il proiettile di un fucile calibro 30 colpisce Donald al cuore. A quel tempo le autorità non riescono a tracciare una pista o individuare delle prove che aiutano a identificare l'omicida. Dylan in seguito riferirà. Ha detto, che succede? Poco prima che gli sparassi. Non era premeditato, ve l'ho detto ragazzi. Insomma, stavo solo guidando, mi sono avvicinato a lui e basta. Ho sentito una voce nella mia testa che diceva, apri il fuoco su di lui. E l'ho fatto. Sabato 10 novembre 1990, il 21enne Jamie Paxton sta cacciando fuori St. Claresville, una comunità dell'Ohio vicino al confine di stato con il West Virginia. La stagione annuale della caccia, lì in Ohio, è in pieno svolgimento e Jamie esce di casa la mattina presto per cercare di catturare un cervo. Il ragazzo vive con i suoi genitori nella contea di Ben Nock, sempre in Ohio. Dopo aver fatto colazione poco prima delle sette, saluta sua madre, Jeanne Paxton, e suo padre, Mikey, e si allontana con la propria balestra. Jamie, ahimè, non viene più visto vivo. Jeanne, sua madre, aspetta che suo figlio rientri, ma alle 14.40, mentre la donna svolge le faccende domestiche, l'automobile di uno sceriffo si ferma davanti a casa sua. Il corpo di Jamie era stato trovato dagli amici, su una collina boscosa lungo la Route 9. Il ragazzo era morto per evidenti ferite riportate al petto, al ginocchio destro e alle natiche causate dal proiettile di un fucile. Il trentenne Kevin Loring del Massachusetts sta cacciando nella contea di Muskingham, a ovest della contea di Belmont e a sud della contea di Coshocton, il 28 novembre 1990. Di professione il ragazzo ripara frigoriferi, è sposato ed è padre di tre bambini. Viene ucciso da un colpo di pistola diretto al volto, mentre sta cacciando Cervi in una zona mineraria. L'omicidio di Kevin Loring all'epoca viene considerato un incidente di caccia. Sabato 14 marzo 1992, il 49enne Claude Hawkins, padre di quattro figli, decide di andare a pesca. Si reca in uno dei suoi posti preferiti, appena sotto la diga di Wills Creek, a nord-ovest di Belmont, nella contea di Coshocton. Viene trovato morto, colpito alla schiena da un proiettile a distanza ravvicinata. Poiché l'omicidio viene commesso in territorio federale, l'FBI viene chiamata in causa. L'agente speciale Harry Trumbitis è uno degli ufficiali assegnati al caso. Dirà in un'intervista, Di solito in zona si trovano alcuni tipi di bossoli. Ricordo di aver cercato strenuamente eventuali bossoli o indizi del genere. Non è stato mai trovato nulla. Quindi, il colpevole era qualcuno consapevole delle prove che sarebbero state raccolte. Dopo il suo arresto, Dylan riferirà È passato in macchina e mi ha salutato. L'ho visto pescare laggiù. Ho sentito una voce nella mia testa dire Torna indietro, vai a prenderlo. Sono quindi andato laggiù e l'ho ucciso. Gli ho sparato alla schiena. Il 5 aprile 1992, il 44enne Gary Bradley, residente nel West Virginia e padre di tre figli, sta pescando vicino al capoluogo della Contea di Noble. Quando viene colpito? Thomas Dylan viene anche indagato in riferimento alla morte irrisolta di John Joseph Harvat, avvenuta il 28 novembre 1984 in un campo di caccia a Wetmore Township, Contea di McKean in Pennsylvania. Quello che sei è un cacciatore di umani, dice un noto psichiatra forense a Dylan dopo aver conosciuto la sua storia. Questo psichiatra inoltre è stato coinvolto in casi famosi, come quello di Ted Bundy, per citarvene uno insomma. Chiunque abbia ucciso quegli uomini l'ha fatto per la propria soddisfazione e per il proprio piacere, dice il dottor Emanuel Tanai, professore di psichiatria alla Wayne State University di Detroit. Adesso approfondiamo il discorso sulle indagini e sugli sforzi di Jean Paxton, la madre di Jamie, la seconda vittima di Tom. La polizia trova poche o nessuna prova da catalogare sulla scena del delitto. Inoltre, non ci sono testimoni. Poco tempo dopo l'omicidio di Jamie, Jean, la madre del ragazzo, inizia a scrivere parecchie lettere indirizzate all'assassino e pubblicate tramite il quotidiano Martin's Ferry Times Leader. In una lettera scrive All'assassino di mio figlio Jamie, sarebbe più facile per te se scrivessi parole di odio? Non posso perché non provo odio. Provo un profondo dolore per aver perso mio figlio. Il 10 novembre hai preso la luce della mia vita e mi hai lasciato immersa in molti giorni di oscurità. Hai pensato alla tua stessa morte? Se non confessi il tuo peccato e non chiedi perdono a Dio, affronterai il fuoco e la furia dell'inferno. Quando verrai catturato, mi pentirò per la tua famiglia. Dovranno portare il peso della tua colpa. Gli investigatori spiegano a Jean che l'assassino probabilmente non si sarebbe commosso leggendo le sue parole, ma lei insiste scrivendo nell'ottobre del 1991. È passato quasi un anno da quando hai ucciso mio figlio. La tua vita è cambiata negli ultimi 11 mesi? La nostra famiglia non vive dallo scorso 10 novembre. Sopravviviamo un giorno alla volta. C'è una domanda nella nostra testa presente durante tutti i giorni e ogni volta che ci svegliamo di notte vogliamo sapere perché Jamie è stato ucciso. La perseveranza di Jean alla fine dà i suoi frutti quando Dillon invia una lettera anonima e dattilo scritta al quotidiano locale, ossia al Times Leader, e indirizzata anche allo sceriffo McCourt e ai Paxton. La lettera era stata sferita da una cassetta esterna dell'ufficio postale di Martins Ferry. Dillon scrive Sono l'assassino di Jamie Paxton. Jamie Paxton era un completo estraneo per me. Non l'ho mai visto prima in vita mia e non mi ha detto una parola quel sabato. Paxton è stato ucciso a causa di un'irresistibile compulsione che ha preso il sopravvento sulla mia vita. Sapevo, quando ho lasciato la mia casa quel giorno, che qualcuno sarebbe morto per mano mia. Solo che non sapevo chi o dove. Tecnicamente soddisfo la definizione di serial, ma sono una persona dall'aspetto mediocre, con una famiglia, un lavoro e una casa, proprio come te. Qualcosa nella mia testa mi fa diventare uno spietato assassino senza coscienza. Per quanto riguarda Jamie, meriti di riconoscere i dettagli. Ero molto ubriaco e una voce dentro la mia testa disse Fallo! Ho fermato la mia automobile, dietro quella di Jamie, e sono asceso. Jamie iniziò a camminare molto lentamente giù per la collina, verso la strada. Sembrava che stesse guardando oltre me, verso qualcosa in lontananza. Ho portato il fucile alla spalla e l'ho allineato nel mirino. Ci sono voluti almeno 5 secondi per prendere una mira attenta. Il mio primo colpo è stato un po' scialbo e l'ho ferito al petto. Gemette e cadde. Volevo assicurarmi che fosse morto, quindi ho sparato un secondo colpo mirando a metà tra l'anca e la spalla. Stava strisciando per terra. Sparai di nuovo colpendolo al ginocchio. Alzo la testa e gemette ancora. Poi non si è mai più mosso. Cinque minuti dopo aver sparato a Jamie stavo bevendo una birra e avevo cancellato dalla mia mente tutti i pensieri su ciò che avevo appena fatto. Non ho più pensato di sparare. So che mi odi dal profondo del cuore, giustamente. Penso a Jamie ogni ora del giorno, come sono sicuro che fai tu. Non sentirti male per non aver risolto questo caso. Potresti intervistare fino al giorno del giudizio tutti coloro che Jamie Paxton ha incontrato nella sua vita, ma non avresti la minima idea della mia identità. Senza movente, senza arma e senza testimoni non potresti risolvere questo crimine. Firmato. L'assassino di Jamie Paxton. Capiamo ora come l'FBI è giunta alla definizione del profilo dell'assassino. La lettera non fornisce alcun aiuto immediato nel risolvere il caso, ma viene chiesto all'Unità di Scienze Comportamentali dell'FBI a Quantico in Virginia di delineare un profilo dell'assassino. La cosiddetta Hannibal Lecter Squad rappresenta il trio di persone a guida della task force. Il profilo tracciato ne scrive l'assassino come un maschio, bianco, istruito e come qualcuno con una predilezione per i crimini quali l'incendio doloso e l'uccisione di animali domestici e animali da fattoria. Il profilo sembrerebbe perfetto, ma non lo è. Prevede infatti che l'assassino viva a breve distanza dai luoghi in cui sono stati compiuti tutti i crimini, ma Dillon viveva invece a una distanza massima di 150 miglia e si ipotizza che potrebbe avere circa 20 anni. Dillon ne aveva invece 42 quando viene arrestato. Altre caratteristiche, l'assassino potrebbe essere un normale padre di famiglia, ma è più probabile sia un solitario. Ha un problema con l'alcol? È una storia di vandalismo compulsivo e incendio doloso alle spalle. Lo stress provato dall'uomo avrebbe innescato le sparatorie che spesso sarebbero state commesse mentre lui era ubriaco. Il 26 agosto 1992 un compagno di scuola superiore di Dillon, Richard Frye, di 43 anni, chiama il detective Sergeant Walter Wilson della contia di Tuscarawals, preoccupato per il serial e le uccisioni di animali. Questa telefonata, finalmente, dà una svolta al caso. Richard aveva letto sul giornale il rapporto dell'11 agosto 1992 riferito al caso e il profilo elaborato dall'FBI. Diversi giorni prima l'uomo aveva chiamato il numero dell'FBI indicato nei vari articoli di giornale sugli omicidi e aveva lasciato un messaggio in segreteria. Quando l'FBI non l'ha contattato ha chiamato il dipartimento dello sceriffo della contea di Tuscarawals. Vorrei incontrarti, disse Richard al detective Wilson. Ho visto i rapporti sulla task force che è stata costruita per risolvere gli omicidi e penso di conoscere un uomo che dovrebbe essere indagato come possibile sospettato. Richard in realtà era nervoso all'idea di entrare nella stazione di polizia quindi il detective Wilson ha accettato di incontrarlo in un luogo privato fuori città più tardi quello stesso giorno. Così la task force della omicidi dell'Ohio sudorientale ottiene molti suggerimenti che però non si convertono ancora in un effettivo risultato. Wilson inizialmente è scettico crede che la storia di Richard su Dylan sia un vicolo cieco un altro vicolo cieco. Richard spiega che Dylan gli aveva chiesto se lo ritenesse in grado di uccidere qualcuno. Il modo in cui Tom lo aveva guardato gli aveva fatto gelare il sangue nelle vene. Richard e Dylan in realtà si erano conosciuti all'ultimo anno dell'ex Glenwood High School di Plain Township. L'adolescente guidavano nella campagna sparando ai segnali stradali e agli animali inoltre piccavano fuochi totalmente a caso. Dylan però era diventato più violento e crudele aveva preso a sparare anche agli animali domestici che incontravano. Richard aveva letto degli omicidi e sapeva che a Dylan piaceva girare in macchina proprio in quelle zone nei fine settimana. Sapeva che Dylan aveva diverse armi e che aveva sparato e ucciso tanti animali. Sentiva dunque che Dylan era il tipo di persona che poteva essere colpevole di quegli omicidi. Richard spiega che lui andava a caccia con Dylan perché erano entrambi appassionati di armi. All'inizio agivano come comuni cacciatori poi però iniziarono a recarsi nelle discariche a sud della contea di Stark. Lì cacciavano i ratti e in un'occasione si erano imbattuti anche in dei cani. Erano molto magri e malati avevano addirittura delle ferite aperte. Tom Dylan aveva chiesto a Richard pensi che dovrei ucciderli? Richard aveva risposto beh guarda probabilmente faresti loro solo un favore. Tom quindi sparò ai cani ma Richard non se ne preoccupò più di tanto d'altronde erano cani selvatici e potevano essere feroci ma Dylan da quel momento iniziò a sparare a tutti i cani che incrociava lungo la strada. Richard gli disse Tom sparare a un cane selvatico può essere ammissibile ma a me quei cani non sembrano così selvatici. Tom gli rispose non puoi lasciare che quelle maledette bestie se ne vadano in giro. Richard lo lasciò sparare ancora una o due volte e poi però lo riprese dicendogli chiaramente di smetterla altrimenti non sarebbe più uscito con lui. Quelli erano animali domestici e avevano una famiglia. Richard tra l'altro ricorda anche un altro episodio allarmante mentre tornavano da Edbull Lake nella contea di Carroll Tom fermò la macchina si allontanò dal lato della strada tirò fuori la pistola e iniziò a sparare a un contadino in lontananza. Fortunatamente era troppo lontano per riuscire a colpirlo. Anni dopo finiti ormai i tempi della scuola Richard Frye si imbatte in Tom Dillon a Newcomerstown nel sud della contea di Tascarawals intorno al 1986. Quella era la prima volta che gli parlava dopo molto tempo. Gli chiese cosa ci facesse lì e Dillon rispose che stava solo dando un'occhiata in giro. Richard non credeva alle sue parole e quando lo vide a Newcomerstown pensò si sta spostando più a sud perché continua a fare le stesse cose che faceva anni fa. Nonostante i suoi sospetti Richard rinnovò la sua amicizia con Dillon nel 1989 anche grazie al loro comune interesse per le armi da fuoco. Poco tempo dopo la mostra di armi della Ohio Gun Collectors Association venne spostata e allestita a Cleveland. Richard non era un membro dell'associazione ma Dillon lo invitò lo rassicurò che aveva smesso di uccidere animali così Richard pensò che potevano di nuovo frequentarsi. Le mostre di armi si tenevano 5 o 6 volte all'anno. Dillon e Richard vi andavano sempre insieme e durante i loro lunghi viaggi parlavano di armi di caccia e in alcuni casi delle storie dei serial. Durante uno di quei viaggi Dillon disse a Richard che sarebbe stato facilissimo commettere un omicidio. Richard ricorda di un episodio in cui Dillon stava guidando poi di colpo aveva ridotto la velocità guardando Richard e dicendogli ti rendi conto che potremmo andare in campagna a trovare qualcuno e ucciderlo anche adesso? Non ci sono testimoni puoi sparargli anche senza motivo. Hai idea di quanto sarebbe facile farla franca dopo aver commesso un omicidio? Durante un altro viaggio per visitare una mostra di armi Dillon gli pose una domanda ancora più inquietante. Richard Fry spiega che stavano parlando del serial Ted Bundy quando Tom gli chiese pensi che abbia mai ucciso qualcuno? La domanda colse alla sprovvista Richard che gli rispose no non credo Dillon però gli ripetì la domanda secondo Richard il modo in cui aveva pronunciato nuovamente quelle parole era inquietantissimo non l'aveva mai visto così prima di allora e pensò inevitabilmente siamo sicuri che non abbia sparato proprio a nessuno? Esaminiamo adesso altre testimonianze che lasciavano sospettare di Tom Dillon i colleghi e i vicini di Tom Dillon vengono intervistati dai membri della task force investigativa una collega che sostiene di conoscere Dillon da 20 anni spiega che il suo soprannome era Killer perché spesso si vantava di sparare a cani e gatti il collega e un secondo impiegato comunale descrivono Dillon come un solitario non aveva un buon rapporto con sua moglie riferiscono agli investigatori i colleghi forniscono anche un possibile collegamento tra Dillon e gli omicidi Tom infatti è in possesso di alcune mappe che comprendono molte delle contee centro orientali dell'Ohio dove si sono verificati gli omicidi le espone in bella vista sul tavolo e su uno schedario in casa sua un secondo collegamento significativo viene stabilito quando si scopre che Dillon aveva acquistato numerose armi da fuoco da un collega che aveva una licenza di commerciante di armi da fuoco federale attenzione federale è molto grave i registri del commerciante mostravano che Dillon aveva acquistato 18 armi negli ultimi anni inclusi 4 fucili calibro 30 e 2 Mauser corrispondenti al modello usato per uccidere 4 delle 5 vittime ma il primo indizio che collega Dillon ai crimini sono i suoi spostamenti tutti i fine settimana e i giorni di vacanza in cui era in giro corrispondevano alle date degli omicidi il 20 settembre 1992 un vicino vede un camioncino Toyota rosso vicino al punto in cui un cane viene ucciso nella contea di Toscarawas un proiettile calibro 25 viene rimosso dal cane e Richard Fry dice al detective Wilson che Dillon possedeva una pistola simile Wilson che segue Dillon da solo per diverse settimane ne ha abbastanza e crede sia arrivato il momento di ottenere il via libera per la sorveglianza 24 ore su 24 lo sceriffo della contea di Toscarawas Harold McKimmy afferma che il lavoro preliminare di Wilson ha convinto gli altri membri della task force che Dillon è un possibile sospettato a partire da metà ottobre la task force segue Dillon il quale si reca a spettacoli incentrati sulle armi e viaggia nei fine settimana nelle contee di Belmont Harrison Toscarawas Holmes Coxton e Carroll lo si vede spesso bere fin dalle prime ore del mattino l'8 novembre la sorveglianza aerea vede Dillon fermarsi più volte e puntare quella che sembra una pistola contro dei contatori elettrici disposti sulle pompe dei pozzi petroliferi e contro un segnale di stop Dillon si ferma anche vicino a un'automobile con sopraffisso un cartello con la scritta in vendita raccoglie un grosso sasso e lo lancia attraverso il parabrezza così a caso senza motivo logico l'11 novembre i membri della task force perdono di vista Dillon mentre torna a casa dalla contea di Belmont più tardi quel giorno apprendono che due mucche sono state uccise con una balestra nella contea di Toscarawas Richard Fry aiuta le forze dell'ordine a ottenere molte delle frecce appartenenti all'arma di Dillon compatibili con quelle conficcate nei corpi delle mucche il 21 novembre la squadra segue Dillon mentre è diretto a uno spettacolo sulle armi a New Philadelphia dove acquista un fucile calibro 22 che non è abbastanza di armi giustamente l'acquisto di quella pistola e di una pistola calibro 25 a uno spettacolo sulle armi di Cleveland il 7 novembre è sufficiente per arrestare Dillon in quanto l'uomo ha violato il suo patteggiamento cioè ha continuato ad acquistare armi quando non avrebbe dovuto farlo se vi ricordate ma l'FBI non ha ancora prove dirette per inchiodarlo come l'autore dei 5 omicidi Dillon viene avvistato mentre visita la tomba di Kevin Loring la sua terza vittima nel Massachusetts Dillon spiega la polizia dopo il suo arresto quando sono andato nel New England l'anno scorso con mia moglie ho guardato il microfilm della biblioteca di Plymouth dove viveva il ragazzo e tutto il resto era della zona di Dexbury ho semplicemente letto sapete per vedere cosa chi diavolo fosse non lo conoscevo affatto nonostante la presenza della sorveglianza Dillon tenta di uccidere Larry Haller nella contea di Tuscarawas ma lo manca e Larry riesce a fuggire il leso fortunatamente nel novembre del 1992 intorno alle 9 su una strada remota della contea di Harrison un aereo di sorveglianza dell'FBI con a bordo detective Walter Wilson sta seguendo il camioncino Toyota rosso di Dillon Dillon è già ubriaco a quell'ora davanti a lui c'è un incrocio a T e vicino adesso una donna che fa jogging e si dirige verso destra fortunatamente Dillon svolta a sinistra arriviamo adesso all'arresto di Dillon con l'avvicinarsi della stagione di caccia la squadra di sorveglianza sa che deve affrettarsi soprattutto col fine di scongiurare eventuali ulteriori omicidi Dillon viene finalmente arrestato il 27 novembre 1992 dopo quasi 6 settimane di sorveglianza mentre lascia un minimarket nella contia di Toscarawas le autorità lo arrestano con un'accusa federale per possesso di armi il 27 novembre 1992 mentre è in attesa della condanna per il possesso di armi in tribunale viene annunciato che Dillon è il principale sospettato delle sparatorie mortali che sono avvenute tra l'aprile del 1989 e l'aprile del 1992 in una conferenza stampa gli inquirenti chiedono a chiunque avesse venduto armi da fuoco a Dillon di farsi avanti se in possesso di qualsiasi prova il 4 dicembre 1992 un commerciante di armi della contea di Stark mostra un fucile Mauser svedese dicendo che Dillon glielo aveva venduto il 6 aprile 1992 durante uno spettacolo sulle armi a Massillon il giorno dopo l'omicidio di Gary Bradley i test ballistici indicano che era il fucile usato per uccidere Bradley e Claude Hawkins il 27 gennaio 1993 Dillon viene incriminato per la morte di Gary Bradley e di Claude Hawkins grazie a Dio le ricerche effettuate nella sua casa e nei suoi veicoli non conducono al ritrovamento di armi da fuoco o altre prove che lo colleghino ai brutali omicidi le autorità credono anche che Dillon potesse essere responsabile di molti dei 108 incendi di fienili e case abbandonate segnalate a partire dal 1988 nelle contee di Tuscarawas Harrison Carroll e Coshocton i membri della famiglia di Dillon sono scioccati dal suo arresto sua suocera Anne Ilssas un'insegnante di scuola superiore in pensione e consulente di orientamento si rifiuta di credere che il suo genero sia capace di uccidere Dillon è un uomo spiritoso e gentile ha sempre avuto una passione per le armi ma tutto qui dice la donna anche se si rifiuta di credere alle accuse iniziali contro di lui aggiunge se sono vere però sono vere il mio stomaco è in subbuglio e d'altro canto devo tenere alto il morale per Katie mia figlia forse una parte di me vuole crederci ma lo nego a me stessa Tom era sempre gentile scherzava sempre era come un figlio per me siamo una famiglia molto unita vediamo adesso cosa accade in tribunale il 9 febbraio 1993 Dillon arriva al Nobel County Courthouse il procedimento è breve e Dillon si dichiara non colpevole delle accuse di omicidio per la morte di Gary Bradley e Claude Hawkins una terza accusa di omicidio viene presentata contro Dillon il 22 maggio 1993 viene accusato di omicidio aggravato per la morte di Jamie Texton il 12 luglio 1993 Tom Dillon presenta i suoi motivi davanti all'udice John Now non mostra alcuna emozione mentre risponde colpevole ad ogni accusa Dillon inoltre ammette di aver appiccato 160 incendi e di aver commesso altri atti di vandalismo nell'Ohio orientale durante i 5 anni precedenti lo sceriffo della contea Landon Smith stima che gli incidenti provocati da Dillon hanno causato danni per oltre 2 milioni di dollari gli incendi sono stati appiccati nelle contee di Coshocton Belmont Wersney Carroll Columbiana e Tuscarwals il procuratore della contea di Nobel Lucien Young III afferma che il patteggiamento è la soluzione più pratica anche se preferirebbe una condanna a morte avevo la sensazione che non ne sarebbe uscito vivo dice l'avvocato di Dillon Roger Seinenberg inoltre ribatte sulle affermazioni secondo cui Dillon non provava rimorsi l'avvocato dice ha dei rimpianti per quanto commesso ma deve anche lasciarsi tutto alle spalle parliamo ora della condanna Dillon si dichiara colpevole di 5 capi di imputazione per omicidio e il 12 luglio 1993 viene condannato a 5 ergastoli consecutivi senza possibilità di libertà condizionale per 165 anni dopo la sentenza Dillon dice ho grossi problemi sono pazzo voglio uccidere voglio uccidere Dillon spiega chiaramente che i suoi problemi derivano dall'infanzia turbolenta che ha vissuto aggiunge inoltre che è spaventato all'idea di essere mandato nella struttura correttiva di massima sicurezza dell'Ohio meridionale a Lucasville dove era avvenuta una rivolta solo pochi anni prima in risposta alle sue preoccupazioni i familiari delle vittime avviano una petizione affinché venga recluso proprio lì più di 8000 abitanti dell'Ohio firmano le petizioni e lo stato le onora alle 7 della sera successiva alla sentenza il telefono dei Paxton Squilla è Thomas Dillon l'assassino di suo figlio dice Jim Paxton che il suo commento in cui lo ha definito patetico codardo lo aveva ferito la donna risponde ecco cosa sei Thomas e se inizi con il tuo atteggiamento presuntuoso te lo giuro riattacco ne ho sentito parlare abbastanza negli ultimi mesi non mi interessa quello che hai da dire ma ci sono cose che voglio che tu sappia Thomas dimmi hai mai sentito l'espressione le lacrime sono la valvola di sicurezza del cuore Thomas non ha idea di cosa voglia intendere la donna quindi le dice di essersi pentito e di essersi rifugiato nella preghiera Jean spazientita ribatte smettila con le tue parolacce smettila di scherzare e prendi la bibbia prima che sia troppo tardi perché Tom Dillon ha ucciso quegli uomini lo psicologo il dottor Jeffrey Smuldoon dice che esaminando Dillon su richiesta dei suoi avvocati difensori ha detto al processo quello che vedete qualcuno che guarda si presenta in un modo che sembra spaventosamente normale e la realtà è che la maggior parte delle persone che commettono crimini come quelli commessi da Dillon appaiono proprio in questo modo spaventosamente normali non l'avresti mai individuato tra la folla insomma era sposato padre di un figlio aveva un'istruzione universitaria aveva lavorato per 22 anni come disegnatore tutti sapevano che a Dillon piaceva cacciare semplicemente non sapevano cosa o meglio chi stesse cacciando Dillon aveva trovato le sue vittime lungo le strade secondarie dell'ohaio rurale non c'erano regole o ragioni per selezionare i suoi bersagli si metteva alla guida del suo camioncino nei fine settimana e percorreva 100 migli o più finché non individuava qualcuno che si trovava da solo come un cacciatore o un pescatore quando li incontrava indirizzava il suo camion tirava fuori il fucile prendeva la mira e colpiva nella sua confessione Dillon dice di aver sparato alla sua prima vittima 13 anni prima era un uomo seduto a casa a guardare la tv Dillon racconta dunque c'era questo ragazzo con le spalle alla finestra panoramica di casa sua era seduto sul divano quindi mi è venuto in mente questo pensiero e una voce nella mia testa ha detto fermati e spara spara questo ragazzo così gli ho sparato attraverso la finestra panoramica questo tipo di voce nella mia testa era assordante ripeteva torna indietro torna indietro e prendilo torna indietro e va a prenderlo ho preso il mio fucile sono andato laggiù ho saltato il guardrail mi sono appostato tra i pini e gli ho sparato alla schiena ma la voce che Dillon sentiva nella sua testa era proprio la sua ecco perché il dottor Smolden dice quando glielo ho chiesto alla fine lo ha messo ha detto non era un'altra voce so che sono stato io era la mia stessa voce era una voce nella mia testa Smolden ha detto che Tom stava vivendo in un mondo fantastico di sua creazione spiega ha parlato a lungo dei vari ruoli fantasy in cui si era immaginato nel corso degli anni andavano dall'essere il presidente degli Stati Uniti all'essere un cantante dei Doors e dei Beatles i Doors e i Beatles contemporaneamente abbiamo un problema comunque procediamo ma erano tutti i ruoli legati tra loro dalla tema del potere del prestigio dell'influenza e della grandiosità ora ho scoperto anche che la sua vita fantastica ha una componente molto più scura rispetto agli esempi che ho citato alcune delle sue fantasie lo vedevano come combattente in una situazione di guerra sull'omicidio di Kevin Loring Dylan dice non lo so è solo che mi è venuto in mente qualcosa sapete è solo una cosa del momento descrivendo l'omicidio di Jamie Paxton spiega ho sentito una voce che diceva semplicemente fallo sono solo uscito avevo un fucile con me è venuto dalla collina per me ho solo aperto il fuoco su di lui nient'altro Tom riferisce agli ufficiali che si sentiva in colpa nel considerare che Paxton aveva soltanto 21 anni infatti dice mi sono sentito male per il ragazzo credetemi non sapevo che fosse così giovane non riuscivo a vedere quanti anni avesse da lontano pensavo ne avesse 30 o 35 non sapevo fosse così giovane ho fatto esplodere quel ragazzo aveva tutta la vita davanti e io gliel'ho spezzata via mi dispiace per lui quando gli chiedono il motivo per cui ha ucciso Dylan non sembra mai avere una risposta gli viene domandato se avesse dei sentimenti nei confronti delle sue vittime e Dylan risponde no nessun sentimento di sorta erano proprio lì nel posto sbagliato al momento sbagliato Smeldon spiega penso che si stia trattenendo perché vuole rimanere un enigma mi chiedeva hai mai incontrato qualcuno complicato come me puoi capirlo questo sono io questo comportamento ti lascia perplesso come a me non c'è mai stato un criminale come me in Ohio vero nessun motivo nessun contatto con le vittime come hai potuto capirlo il 21 ottobre 2011 Dylan muore nell'ala della prigione del correction medical center di Columbus nell'Ohio all'età di 61 anni detto questo ho finito di parlare in questo video fatemi sapere se conoscevate questo caso perché effettivamente mi lascia un po' perplessa la storia di un serial che spara a delle persone totalmente a caso fatemi sapere che cosa ne pensate ma soprattutto se magari avete anche qualche altro caso da propormi di questo tipo perché lo trovo affascinante soprattutto la parte in cui gli dice di sentire le voci nella sua testa purtroppo non ho trovato delle fonti in cui approfondire ancora di più e quindi non ho ben capito se effettivamente queste voci le sentiva davvero oppure era lui stesso che praticamente si diceva da solo fallo vai colpisci non lo so fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti come al solito io vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti grazie a tutti